eee bella a tutti ragazzi sono saluti in questo video come promesso video di sera perchè dobbiamo cercare di arrivare a questo livello 100 e sbloccarsi nella guglia ve lo ho già detto prima nel video che ho fatto sto pomeriggio non me lo voglio sciopar raga perchè voglio arrivarci da solo io vediamo un pochino cosa fare prima di iniziare la partita sox ah no no questo non ho mai visto non ho mai visto fiera fiera delle armi perchè guardate raga freddo si sblocca già altri centri basso se prendimi forchello vabbè andiamo raga devo sbloccarla lei devo sbloccarla assassina della guglia la devo sbloccare anche il suo bolletto non si torna indietro integrato eh però è più figa mi piace di più è più figa così la skin senza con la maschera con la maschera scusate è così mi piace tipo così o no ce la devo fare adesso invito da H per forza scusate con il video di prima che è durato molto ma la partita finale forse non lo so vabbè comunque comunque matteo mi ha scritto che sono un grande comunque ringrazio matteo e ringrazio tutti che mi scrivono che sono un grande che mi che mi che mi che mi dai complimenti mi ringrazio tutti comunque mi sono messo il cercatore come penso forse cercatore si chiama ho tutto il set dell'assassino della guglia tranne l'assassino della guglia e il suo balletto è troppo tardi che sono nei nuovi vabbè scusate che sembra notte ma non è notte fra un'ora forse è tardi vabbè allora oh ma che mi sparo è troppo difficile ecco mi manca troppo raga è possibile no no qua se te lo fasi far come posso fare quello di stanza di corre in un veicolo quanti mi hanno 2,5 torci raga sì che ce la faccio allora in un attimo ce la faccio comunque raga se arrivo a livello 100 ce la faccio no se arrivo a livello 100 facevo qualche partita con l'assassino della guglia ovviamente manco sono un livello raga raga poi mi scioperò il nuovo pass l'8 giugno spero spero ma sicuramente si allora devo andare a un posto ci sono veicoli andiamo proviamo a no no proviamo a si è più che devo percorrere distanze percorri in un veicolo 7000 devo arrivare a 700 000 quindi fra un po' ce la faccio ombra le persone di ognuno che si chiama il personaggio di fortnite anche anche per te grande di assassino e l'anguia ma non ancora la skin ce la devo fare raga atterro in un posto qua a questa cesta prendo l'auto e faccio la mission ok sono preso già un'arma moto va l'auto girangelo un pochino dov'è ombra vai raga non vestito sono una berlina raga raga ah ce loco si fata dai raga mi da ocaze perchilare raga da raga spero ce a servit pe urlo raga ce era l'altru ce era l'altru ce el trou ce era l'altru ce l'altru ce l'altru sanita sa che de buchilare nemiice color e l'alto unire de bufare anche quello ce lo devo fare ragazzo l'ho quasi fatta devo cambiare l'auto sono quasi per morire ragazzo spenditi auto l'ho ucciso, l'ho ucciso della raga incredibile 4 kg io sono un po' la partita al video di prima che ho fatto, che ho pubblicato che ho fatto prima e sono stato un po' andando vabbè sono arrivato terzo non mi sono curato? si quanto sto a mangiare? perchè non li metto a capo ombra ombra ce l'ho quasi fatta ok raga ci andiamo a fare dai oh no raga un altro nemico e io lo investo le ho dato le ho dato un bel colpo e questo le doppie vende ok ok posso fare la sfida di nemmarro? è perfetto è perfetto ce l'ho quasi fatta raga a capo che si 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 oh no oh no questo non questo lo trovo a scudo ok è quasi morto raga mannaggia il nemico ha fatto colpo fate investire non ce la faccio oh raga scusate basta il nemico ha rotto le scatole che cavolo hai distrutto l'auto e non ci sei frate io c'è che quasi in più è carburante e sta uccidendo altrimenti ok raga quasi fatta la missione secondo me ce la faccio in video scuola si è troppo tardi ok ci siamo io prendimi col tazzi per forza che è tutta distrutta quella qua non ti ho ridotto sta però devo andare qua che o qua sono qua sono arrivata dai raga ce la devo fare per forza tutti i costi raga posso prendere questa auto blu? auto blu corro con il mio fra mangio disco no il disco di funghi la la brum brum ho fatto raga si 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 raga ce l'ho fatta si eh continuiamo la partita raga si finalmente finalmente raga ce l'ho fatta raga finalmente dopo un po' di tempo ce l'ho fatta ce l'ho fatta e lo ci sarà cosa fortissimo due spassa però questo ho fatto pure le altre missione raga so che le delle missioni non è inutile raga si ce l'ho fatta si ragiona adesso finalmente raga raga finalmente ho urlato un sacco raga non riesco a prendermi in mente sicuramente hanno sentito da lì fuori vabbè raga ce l'ho fatta raga ce l'ho fatta raga finalmente raga ho urlato un botto ma non me ne frega un cavolo ce l'ho fatta raga finalmente sono il bello 100 aspettavo da tanto questo momento raga finalmente ce l'ho fatta eppure sono iniziato pure in video raga che figata raga finalmente quando arrivo a livello 100 stavo dicendo mi arrabbio scusate mi sono confuso con le parole sono felicissimo volevo dire non mi arrabbio sono felicissimo scusate ho detto che mi arrabbio sono felicissimo volevo dire no che mi arrabbio raga finalmente oh raga che è stato bellissimo chiamami per nome solo quando avrò verso le parole perché in buono ti ho stupito poi non mi ricordo la canzone vabbè raga finita raga ce l'ho fatta e poi c'è un'altra musica alleluia 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 finalmente raga sono felicissimo se era stato in live era stato di più epico però ho fatto in video perché sennò la live l'ho fatta ieri raga raga poi per adesso sono le nuove forse poi non so e ma non so che ora lo carica perché ci vuole un pochino per caricare i video vabbè vabbè l'importante è che sono arrivato al livello 100 e anche se notte sono quasi le 9 e ho disturbato tutti non mi importa un cavolo perché sono felicissimo e finalmente raga e finalmente raga 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 adesso non è sicuramente in 15 persone e se vuoi c'è vittoria reale è super super epico raga chi è che mi invita Matteo raga finalmente dopo tutto sto tempo e si vede pure sotto c'è scritto livelli 100 ah ecco l'elicottero livello 101 campioni d'italia ma è livello 101 raga è pure e yes alla grande se facciamo vittoria reale è super alla grande raga è stato epico super epico super epico raga ed è dovuto andare indietro poi c'è una partita con l'assassino della guglia e poi vedo il video purtroppo raga perché sono natura troppo e siamo già da un po da 15 minuti però è stato super epico raga super super proprio bello è stato bellissimo insomma eh è stato super epico è stato bellissimo lo stesso non so se guarda vabbè manco secondo me c'è un elemento no raga secondo me fa parte della stagione della stagione 7 a ascoltate eh mi sto detto così sentita alle partite sta dicendo a livello 3 8 rigore mi faccio una bella fotografia stupendo sta cosa eppure è molto che prendo l'assassino della guglia e devo fare un'altra fotografia mi rimassi notto raga epic 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 super epic o no che che mi spara? eccolo o no raga c'è sto tizio sto manchetto e io l'ho sciottato e ho fatto pure un'altra missione sono il re delle missioni raga sto video è troppo è troppo leggendario raga incredibile incredibile credibile oh no un altro nemico l'ho visto eh ho qualche rimane ho un nemico ma sicuro è sicuro un nemico raga dai raga ce la devo fare raga immaginate che mettono in quina ci sono sette i terzi ma non penso ah non è un nemico raga è kyle forse pensavo che era un nemico ma c'è quello la kyle mancano sette tizi raga sette players sette players rimanendo come si dice non so ciao kyle sono giallo questo quanto come albero? no 10 alberi addirittura raga sono arrivato a 206 lingotti ma arriva di 1 a 800 raga ok che mi spara? quindi sicuramente faccio le missioni un nemico o da dietro eh ecco la forse e la infatti e muori ops ci lo? manca daga manca l'ultimo e farò la epica tutta la reale non faccio il medici anche se sono ah mi faccio la canna gli scendini mi servono oppure gli scendini sono importantissimi ok ok raga sono divulgiato bene anche l'ultimo tizio e avrò vinto a e dov'è? il problema il problema è capire dov'è dov'è? dov'è sapere da qualsiasi parte? la? no cos'è? no raga come sono preso questo? c'è lo scar leggendario ma raga no non c'è da te devo stare da qualche parte da questo devo stare da queste parti per forza raga è possibile che non c'è? ma? scusate se c'è tosse che è tossito raga dove cavolo è? ah lo sento scolare ma non so dov'è però brutto giusto che non so dov'è ma dov'è? ma? raga? è un nacher sto giocando con un nacher sto giocando con un nacher è possibile che non c'è raga? ma? what? no eccolo raga l'ho visto? un po' di neve è stato qua sta qua no adesso non c'è più è andato ma? eccolo la battaglia definitiva morirò no raga peccato ma è stato epico raga devo fare una partita con l'assassino della guglia raga è stato epico lo stesso anche secondo raga ma è stato epichissimo raga devo fare una partita con l'assassino della guglia? e forza muovete adesso che è l'ammata si raga pure ho sbloccato pure quello di Neymar raga raga e fu così che Sam riuscì a sbloccare l'assassino della guglia ce l'ha fatta dopo un mese non so quanto non mi ricordo quando e finalmente l'ha sbloccata provate a prendermi questa raga finalmente raga finalmente finalmente facciamo una partita con l'assassino della guglia per forza raga livello 101 raga livello 101 raga incredibile è troppo epico livello 110 non guarda livello 110 questo è livello 130 ma non ce la faccio non ce la faccio per questi però è stato epico è stato bene lo stesso troppo epico raga come urlato troppo epico secondo pure la voce questo è un video leggendario raga leggendario leggendario raga leggendario cavolo è stato bellissimo appena urlato sono arrivato secondo pure un butto bellissimo spettacolare è fighissimo sta skin raga però se con il palletto è bello no però se era meglio se facevano no che quando tanto si bacca si pure solo la bocca però 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 è bello lo stesso senza quella maschera è bellissima raga mi piace un botto è bello troppo bello sta skin allora andiamo comunque andiamo no a parte perché ci viene un botto di gente andiamo sabbia raga troppo epico troppo epico sto video raga cittadino scusate ma popò sono senza parole è stato bellissimo 101 c'era scritto ti pensavo livello c ti pensavo tra pareti mi sento e uno 101 sto facendo poi una 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 modalità una modalità una missione raga finalmente raga ce l'ho fatta in video ce l'ho raga ce l'ho fatta in video non toccate in video raga devo fare la fotografia vabbè raga è troppo epico raga sono stupito sono 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 stupito in senso che sono felici sono sorpreso leggendario leggendario già un pompa che fortuna raga quella più mardiare vabbè non me ne frega un cavolo che cugino di albetto riccardo di livello 119 ma io ma l'importante è che ci sono riuscito raga la cosa che che mi importa di più che sono riuscito non fa niente che non riesco a sbucare quelli d'argento non fa niente l'importante è che ci sono riuscito c'è un nemico ho visto qua davanti a me eh eliminato sono un pro raga eh in una partita livello 100 101 sono proprio senza parole troppo epico raga ho detto centomila volte scusate ma capitemi raga eh da quando iniziato capitolo 2 da quando inizia il capitolo 2 caduto il capitolo 2 e quando con il capitolo di da quando sono riuscito a riuscire a riuscire a riuscire a inferiori per il 100 ce l'ho fatta realmente ce l'ho fatta anche mi cura ma come fa bello se sia nella bulla tutta la maschera oh no vabbè vabbè raga non me ne importa che sono morto è stato troppo epico bellissimo 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 epico leggendario leggendarissimo anche se non ho detto male non fa niente ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto sicuramente si perchè è stato troppo epico ho 240 lingotti lasciate un bel like attivate la campanellina e al prossimo video ciao raga è troppo epico sto video ciao